buonasera buonasera a tutte e tutti e benvenuti all'incontro di questa sera con la rubrica a tu per tu con benrice borghi e la professoressa borghi è qui con noi io la saluto e appunto la professoressa borghi è ricercatrice e docente di storia medievale di didattica della storia del patrimonio e di storia del mediterraneo verso l'università di bologna e tiene appunto per giunti scuola la rubrica su due temi molto importanti nel suo webinar parla di educazione civica e affronta anche un altro tema che quanto mai importante e attuale che è quello della varietà di genere e nel webinar di questa sera nello specifico ci parlerà ovviamente di storia di patrimonio e di come valorizzarlo e rispettarlo e di cittadinanza attiva e ci darà insomma degli esempi delle ci fornirà delle buone pratiche proprio per come dire per essere dei delle cittadine dei cittadini attivi io quindi non non tolgo altro tempo le lascio la parola e tornerò alla fine per per porle delle domande che insomma arrivano da voi insegnanti a dopo e buon ascolto grazie martina buonasera buonasera a tutte e a tutti e buon inizio di primavera il tema che affronteremo oggi nella nostra conversazione che auspico come sempre dialogata con le vostre domande riguardo un tema come ricordava martina prima ma è molto caro a noi molto caro che è l'insegnamento della storia attraverso il patrimonio quindi il significato di educazione al patrimonio e alla cittadinanza attiva ovvero quando la storia il nostro passato il tempo dell'umanità incontra il presente un incontro che genera il patrimonio una rete di relazioni di legame a cui noi in quanto membri di una collettività diamo un valore cerco di spiegarmi l'interesse odierno per il patrimonio per i beni culturali è legato ad una esigenza primariamente democratica il patrimonio appartiene a tutti e rientra nei diritti fondamentali dei cittadini come ci ricordano la dichiarazione universale dell'unesco sulla diversità culturale in particolare all'articolo 7 che ci ricorda che ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni culturali ma si sviluppa a contatto con altre culture per questa ragione il patrimonio culturale si ricorda nell'articolo 7 deve essere preservato in tutte le sue forme valorizzato e trasmesso alle generazioni future in quanto testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità al fine di alimentare la creatività in tutta la sua diversità e di favorire un vero dialogo interculturali ed anche l'articolo 2 della convenzione faro del consiglio d'europa che ci ricorda che il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano indipendentemente da chi ne detenga la priorità la proprietà come riflesso ed espressione dei loro valori credenze conoscenze e tradizioni in continua evoluzione essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi e ancora l'articolo 9 della costituzione italiana qui si ricorda che la repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio il patrimonio storico artistico della nazione tutelando l'ambiente la biodiversità gli ecosistemi anche nell'interesse per l'appunto delle future generazioni dunque il mio patrimonio il mio intervento si focalizzerà su alcuni concetti essenziali che riguardano la storia locale che riguardano il patrimonio e l'educazione alla città di danza attiva concetti che hanno a che fare con l'emozione della storia col sentirsi eredi del passato e protagonisti del presente perché se noi ci pensiamo nella storia di ogni comunità ci sono dei luoghi e ci sono dei momenti che sono così pregnanti di significati di valori da costituire i riferimenti gli elementi identitari in cui tutti si possono riconoscere si tratta di sedi e di eventi che avendo avuto o avendo assunto un valore emblematico direi quasi sacrale irradiano il loro significato ben oltre il loro contesto spaziale e temporale divenendo i simboli e i gesti permanenti di un'appartenenza comune e che hanno costituito la nostra identità costruito la nostra identità rinnovandola e ridefinendola continuamente un patrimonio in movimento quindi nei processi di ampliamento della sfera percettiva e relazionale con i bambini e le bambine che vivono in corrispondenza della scuola degli infanti dei primi anni dell'età della scuola primaria è utile sicuramente opportuno che essi possano essere stimolati alle prime forme di solidarietà e di appartenenza di gruppo dalla comune direi acquisizione di conoscenza di sensibilità nei confronti degli elementi e dei volti più accessibili del patrimonio quelli che sono prossimi vicini a cui essi sono in continuo contatto e se volessimo definire aggiungere altre definizioni poi entreremo nel nel concreto nella pratica nell'esperienza se volessimo appunto definire ulteriormente il patrimonio e comprenderne le diverse articolazioni si potrebbe paragonare il mondo attuale ad un grande affresco dipinto dipinto da innumerevoli mani e pennelli risultato provvisorio dei diversi apporti di tutte le esistenze di tutti gli eventi di tutti i fenomeni che si sono succeduti nel tempo i segni più visibili sono quelli recenti che spesso però coprono altri segni talvolta nascondono altre pennellate quelle più remote a volte questi sono dissolti sono cancellati dal tempo sono cancellati perché abbandonate altre volte non li ritroviamo più perché esiti avversi li hanno definitivamente cancellati dunque al nostro cospetto non appaiono più le tracce di quanto è accaduto ma solo quelle che sono rimaste in maggiore evidenza secondo una selezione che ha occultato le vicende più lontane ma anche quelle degli sconfitti quelle degli emarginati dei dimenticati dalla storografia ciò non toglie però che ogni avvenimento ogni presenza abbia modificato benché minimamente la situazione precedente e che comunque il presente racchiude tutti i lasciti del passato dell'umanità d'altronde che esistano dei legami conseguenziali tra il passato il presente il futuro e quindi sia utile trarre dai retaggi dall'esperienza collettiva individuali delle generazioni passate indicazioni utili per progettare responsabilmente la vita attuale e futura è innegabile e questa è la fagnalità dell'insegnamento dell'apprendimento della storia e lo svolgersi della storia genera il suo patrimonio che è dunque l'eterogeneo multiforme insieme di lasciti e risorse nel quale confluiscono e si sedimentano i caratteri i beni i valori i saperi ambientali storici artistici scientifici gli ideali raccolti e condivisi dalle comunità nei loro diversi ambiti territoriali per rispettarlo quel patrimonio per valorizzarlo quel patrimonio è necessario conoscerlo come attivando la sua adozione e di conseguentemente la sua tutela introducendo a forme di responsabilizzazione e di cittadinanza attiva. Gli elementi concettuali che racchiudono il grande cappello del patrimonio sono davvero tantissimi, infiniti perché include il patrimonio naturale, i paesaggi, l'ambiente, i beni materiali, pensiamo le arti figurative, pensiamo l'archeologia, le biblioteche, gli archivi, musei, centri storici, centri delle comunità. Pensiamo anche ai beni materiali, sono tantissimi, le tradizioni, le espressioni orali, incluso il linguaggio, le arti dello spettacolo, il cinema, la musica, il teatro, le pratiche sociali, i riti, le feste e poi l'artigianato, i valori, i modi di vita, i miti, le credenze, i saperi e le abilità. E se pensiamo anche ai luoghi del patrimonio culturale, pensiamo alle strutture permanenti come i musei, come le biblioteche, come gli archivi, ma pensiamo anche ai siti che sono caratterizzati dalla presenza di resti in natura fossile, dai manufatti, dalle strutture protostoriche o di età antica, le aree archeologiche. Pensiamo per esempio a quegli ambiti territoriali che hanno importanti aree archeologiche, come per esempio un parco archeologico, ma pensiamo quando ci troviamo di fronte a un complesso monumentale che è costituito da più edifici che nel tempo si sono posti uno accanto all'altro, si sono fusi uno dentro all'altro, ma poi ci sono i legami con le emozioni, con quei luoghi che uniscono quelle storie del passato tra di loro in una trama di legami a cui noi attribuiamo e abbiamo attribuito nel tempo dei valori, dei valori rinnovati. Per esempio io accanto a me alcuni oggetti che vi mostro, che sono questi, sono oggetti come questa fonte scritta, come questa cartolina, un'altra fonte scritta come per esempio questa fotografia, questa immagine che mi riguardano, che riguardano la mia storia personale, però questo non è patrimonio. Queste sono delle fonti, fonti materiali, sono fonti scritte, sono fonti iconografiche, sono tracce importantissime perché sono fondamentali nel ricostruire il passato, sono tracce che diventano fonti, che diventano documenti per indagare il passato. Ma il patrimonio culturale racchiude qualcosa di più, che è il legame tra queste fonti che vi ho fatto vedere. Include le relazioni, mette a sistema i vincoli che legano le eredità del passato ed educare al patrimonio ha quindi l'obiettivo di rendere umano il rapporto tra tali eredità e chi le ha prodotte, attualizzandolo nel tempo presente. Quindi ognuno di questi, di queste tracce, ognuno di questi beni è fatto da persone, quindi il patrimonio è fatto di persone, perché senza di esse non esisterebbe il patrimonio, senza di esse non esisterebbe, senza le persone non esisterebbero queste fonti e di conseguenza comprendiamo che sono i legami emozionali che definiscono quel patrimonio, quell'educazione al patrimonio, quelle relazioni tra l'oggetto e il soggetto. Quindi l'obiettivo primario dell'educazione al patrimonio è ritrovare quei vincoli tra i retaggi e le persone che lo hanno generato. Il patrimonio è quella casa comune dentro alla quale creare delle nuove appartenenze. Credo che due siano gli aspetti che rendono strettamente attinente alla formazione, l'apprendimento che verte sul patrimonio. Innanzitutto l'integrazione di molteplici competenze e conoscenze tratte da attività di simbiosi tra la scuola e le sedi esterne e il territorio in un quadro multidisciplinare di educazione alla responsabilità, alla consapevolezza, alla solidarietà e lo vedremo. E l'adozione di quei metodi costruttivi di motivazione, di coinvolgimento, di attivismo che sono fondamentali. La scuola è una città, nella città e i legami che si possono instaurare con l'immenso patrimonio che noi abbiamo reeditato, quindi con le istituzioni, con le agenzie formative sul territorio, con le associazioni, con la cittadinanza. Comprendiamo che quindi l'educazione al patrimonio, sono fermamente convinta di questo, possa dare effettivamente un grande impulso e stimola rinnovamento dell'insegnamento stesso della storia, anche perché implica indubbiamente, come la storia stessa, un'integrazione tra le discipline e soprattutto avvia, se noi consideriamo il patrimonio come casa comune, a dei dialoghi interculturali. Le istituzioni, abbiamo ricordato prima alcuni luoghi, quindi pensiamo alle professioni che sono dedicate alla conservazione e alla tutela del patrimonio, sono depositari, sono custodi, sono portatori della cultura di un territorio, sono espressioni delle rappresentazioni e dei sentimenti di appartenenza dei suoi cittadini. Dunque, il patrimonio è il risultato di una scelta di ordine culturale, è una interpretazione che è operata dalla società nel tempo, che è risultanza della memoria umana, individuale o sociale, che viene trasferita di generazione in generazione. Un bene entra a far parte del patrimonio nel momento in cui perde il suo valore d'uso e acquisisce un valore patrimoniale. Pensiamo ad un sito, per esempio, una dismessa di un'area industriale alla periferia della città, in un evidente stato di degrado, può essere considerato e percepito dalla comunità semplicemente come un luogo in abbandono, che deturpa il paesaggio e casomai da radere al suolo, oppure come un'area che si considera patrimonio, cioè bene al quale la stessa comunità conferisce un valore consapevolmente, di conseguenza, il bene che una comunità trasferisce alla generazione successiva è il risultato di una decisione, di una scelta, di una convenzione, di un contratto sociale tra una società e un oggetto al quale viene riconosciuto un interesse collettivo. Vedremo poi come si arriva a definire quel bene come un patrimonio, quindi un bene di interesse collettivo. Qualora quegli interessi non fosse più condiviso, il suo stato di patrimonio sarà inevitabilmente rimesso in discussione, per questo il patrimonio è qualcosa che è in continuo movimento. Da un lato, quindi, noi abbiamo il valore scientifico, riprendo le mie fonti, cioè l'interesse è documentario, l'heritage, ma al tempo stesso noi abbiamo le relazioni tra questi oggetti e il soggetto e questo implica ovviamente l'elemento distintivo, identitario, specifico che sa legare quell'evento a quell'oggetto, quell'oggetto a quel soggetto e quindi è frutto di un processo di interpretazione. E quando penso dunque alla didattica del patrimonio, penso proprio a questa, una didattica di interculturalizzazione, penso ad una didattica che stimoli forme di partecipazione, di solidarietà, di salvaguardia, suscitate dalla esigenza di rispetto e di tutela nei confronti dei beni che vengono presi in considerazione in un quadro multidisciplinari di educazione, per l'appunto alla consapevolezza e alla responsabilità. La città, la comunità nella quale noi viviamo è un libro aperto, a maggior ragione in un territorio, in un paese come l'Italia. Noi entriamo in un museo, appena usciamo da questo museo facciamo pochi gradini e ci troviamo in un museo a cielo aperto, il più bel libro che possiamo leggere, che ci permette in un continuo collegamento di elevarci dalla storia locale alla storia nazionale, alla storia generale, alla storia mondiale e di nuovo ritornare alla storia locale. Come dicevo, la città è un libro aperto della grande storia e della storia locale e affinché la lettura risulti consapevole ed emozionante, è importante educare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze fin dalla scuola dell'infanzia a considerarli come un patrimonio, cioè a considerarli e si prefigurano essi stessi come lo scenario per un'educazione al patrimonio. È nella città che si sostanziano le relazioni umane che prima ricordavo la partecipazione, la produttività, l'innovazione di uomini e donne con la forza educativa e culturale. Leggere quei paesaggi attuali significa leggere gli esiti parziali di matrici, di impronte, di pennellate che vediamo non vediamo, ma anche ciò che non vediamo ci ha lasciato un'impronta. Significa appunto leggere delle evoluzioni che si sono snodate nella storia, significa porvi al centro la vita delle generazioni che vi hanno abitato e creare un legame tra coloro che vi hanno vissuto e chi oggi vi vive e vi si confronta quotidianamente. Credo che questo possa costituire davvero un itinerario in cui saggiare la valenza formativa delle discipline storiche, dove troviamo una continuità così emozionante dell'evoluzione, del pensiero, della creatività di uomini e donne, in quale altro continente riusciamo a respirare la storia, l'emozione della storia in maniera così percepibile, concreta, immediata, senza dover percorrere chilometri, 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 ma pochissimi passi dentro la storia. Il patrimonio abbiamo visto che ventaglio di aspetti e tematiche coinvolge. Pensiamo allora come l'educazione al patrimonio significa prima di tutto anche una biografia culturale, significa l'interpretazione personale dell'eredità di quel passato, attraverso infatti l'osservazione delle tracce lasciate è possibile ricostruire la biografia di un territorio. educare al patrimonio significa dunque rintracciare quelle relazioni e quelle interazioni con i retaggi del passato e credo che dunque l'università abbia un ruolo molto importante nel collegamento, nel stimolare, nel creare, nel supportare questa necessaria rete che si deve insaurare tra la scuola, l'accademia e le agenzie formative. In qualche modo stimolare la sinergia tra la scuola e il territorio, stimolare quella scrittura della biografia culturale, direi un'intelligenza territoriale emozionale. Chi sono io? Chi siamo noi? Io credo che il patrimonio possa davvero aiutarci a rispondere a questi interrogativi in quanto comprende quelle tracce e quei comportamenti delle comunità del passato e che scegliamo di conservare in quanto individui e membri di una collettività e a quali attribuiamo un valore inestimabile, ovvero un valore che non è giudicabile nel suo reale valore perché è infinitamente grande. Educare al patrimonio, fare didattica del patrimonio credo che sia una straordinaria opportunità per costruire cittadinanza attiva, appartenenza e responsabilità, democratica per un dialogo interculturale, riconoscimento vero, cosa significa? È riconoscimento di patrimoni altri, di chi li ha prodotti e poi planetaria con una identità culturale a scala mondiale che trova espressione nel patrimonio dell'umanità. Educare al patrimonio è parte integrante, il patrimonio è parte integrante del curriculum, le stesse indicazioni nazionali lo inseriscono tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze, non a caso che è il riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e comprendere l'importanza del patrimonio artistico e culturale, che quindi è in grado di raccordare le competenze chiave per la cittadinanza e quindi essere la base per sguardi plurimi tra le discipline interdisciplinari. Di fatto educare al patrimonio diventa un esercizio di cittadinanza attiva, significa vivere e fruire il patrimonio nell'esperienza quotidiana, non fare del patrimonio l'elemento occasionale, straordinario, ma viverlo non nell'eccezionalità ma nella quotidianità e per tale, ovviamente per fare questo bisogna riconoscerlo, conoscerlo e assumerne la responsabilità attribuendo valore a quel bene, perché il patrimonio può essere rivissuto da ogni generazione, può essere accettato, può essere modificato, può essere appunto rifiutato, perché esso stesso è un concetto complesso, interdisciplinare, polisemico, dinamico e globale. Se noi pensiamo ad alcuni blocchi tematici in riferimento all'educazione al patrimonio, pensiamo solo alla società, pensiamo a come possiamo indagare l'organizzazione tra la vita pubblica e la vita privata, per esempio l'analisi delle norme, dell'istituzione entro cui si muovono i membri di una società, tra società politiche, religiose ed economiche, le valutazioni delle diverse organizzazioni sociali in cui vive il bambino e le relazioni esistenti tra la comunità privata, collettiva e scolastica. Pensiamo a un altro gruppo tematico come il paesaggio urmano tra le persistenze e i cambiamenti, cioè il patrimonio della città, la storia della città attraverso i suoi resti monumentali, i suoi tracciati diari, le sue forme architettoniche, ponendo l'attenzione sugli stessi modi di espressione e di vita dei suoi abitanti, dalla città attuale alla città antica scomparsa, cancellata da distruzioni, ristrutturata, la città occultata, dimenticata. Ecco l'analisi delle diverse stratificazioni permettono di cogliere le linee evolutive, le persistenze, i cambiamenti. Ciò che c'è, ciò che non c'è più. E poi credo un altro blocco molto importante sia il rapporto tra l'uomo e l'ambiente fisico e culturale. La vegetazione, nel clima, i corsi d'acqua naturali e artificiali, gli assi viari hanno lasciato dei segni tangibili che si possono cogliere nell'attualità tra le risorse dell'ambiente e l'esperienza storica, rilevando i principali problemi ambientali derivanti dallo sviluppo della città, quindi la gestione degli spazi, l'inquinamento, la qualità della vita. Come vedete si tratta di percorsi che accompagnano la nostra programmazione e che permettono continuativamente nel nostro percorso di insegnanti di poter aprire delle finestre, di poter aprire degli osservatori sulla storia locale, sulle questioni dell'attualità dal quale il passo più conseguente è proprio quello dalla nostra storia personale a quella biografia culturale del territorio, partendo proprio da quei blocchi tematici che prima ricordavo, partendo proprio per l'appunto dalla nostra storia locale, cioè il momento in cui la storia incontra il presente e genera il suo patrimonio. Educare, credo, al patrimonio significa dare un senso alle tracce di quei lasciti perché ogni luogo e ogni persona sono gli esiti di storie, non più lineari, sgomitano sullo stesso palcoscenico come schegge di innumerevoli epoche che si accumulano strato su strato, segno su stegno, frammento su frammento, costruendo una ricchezza che nel momento in cui viene riconosciuta, solo in quel momento può essere letta. E il forte impatto percettivo ed emotivo e il lento riconoscimento dei significati più profondi delle relazioni tra i luoghi, i beni, le fonti visibili e invisibili costituiscono, credo, delle azioni di riterritorializzazione grazie a quali il patrimonio locale e non solo il patrimonio locale continua a vivere. Io Martina, se è d'accordo, terminerei qui a queste mie osservazioni e mi piacerà ovviamente rispondere alle domande che mi vengono poste, casomai attraverso le domande entrando nel merito di alcune esperienze che da diversi anni conduciamo come centro internazionale didattica della storia del patrimonio, centro di ricerca del dipartimento a cui afferisco, dell'Università di Bologna, il Dipartimento di Scienze ed Educazione e una serie di attività concrete, esperienziali che conduciamo con le scuole, con gli insegnanti di ogni ordine e grado, volte proprio a un'educazione al patrimonio e a un'educazione alla cittadinanza attiva. Certo, innanzitutto la ringrazio per ovviamente gli ottimi spunti dati in questa prima mezz'ora del webinar, le leggo subito la prima domanda che tra l'altro proprio all'esperienza fa riferimento perché le chiedono quali percorsi possiamo proporre per accompagnare i bambini e le bambine dal curriculum di educazione civica alla pratica esperienziale? Sì, è vero nel senso che noi sappiamo molto bene che l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica è un'introduzione abbastanza recente perché risale al 2019 e se noi appunto andiamo a indagare bene cosa si dice, molte volte si parla di formazione di educazione civica come formazione di cittadini responsabili, attivi, importante è promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, alla vita culturale e sociale di una comunità, si parla molto di conoscenza della Costituzione italiana, delle istituzioni dell'Unione Europea e stimolare la promozione dei principi di legalità, di cittadinanza attiva e digitale, di sostenibilità ambientale, il diritto alla salute e al benessere della persona ma soprattutto emerge in maniera molto precisa come sia fondamentale lungo tutto l'arco della nostra formazione, ma direi della nostra vita, promuovere iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile e si sottolinea molto bene fin dalla scuola dell'infanzia. Allora reputo che sia assolutamente essenziale quei passi che ci portano, come ho detto prima, dall'aula al territorio, inteso sia nel senso urbano che in quello rurale, proprio attraverso la dimensione del vissuto degli allievi, dei bambini e delle bambine, dal quartiere alla città al territorio e credo che questo sia una delle finalità ovviamente fondamentali delle metodologie si basa proprio su questi inscendibili legami che esistono tra la storia e l'attualità. Come ricordavo prima, aprire quegli osservatori sul presente con visioni a diversa ampiezza dal locale all'elemento planetario partendo da questioni importanti come il clima, l'acqua, le risorse appunto e l'inquinamento. Credo che sia, all'inizio ho parlato di conoscere il patrimonio e credo che una fase diciamo molto importante possa essere quello di censire i beni patrimoniali, di inquadrare bene il territorio, la comunità nella quale noi apparteniamo che diventa l'oggetto della nostra ricerca, l'analisi delle fonti, materiali e materiali, la loro catalogazione di schede che permettono di individuare i tratti storici, descrittivi e interpretativi dell'evoluzione delle fonti nel tempo, nel senso indagini che siano volte a individuare le trasformazioni e i cambiamenti che sono avvenuti nel tempo, ovvero i significati che sono stati attribuiti al bene nel tempo fino al tempo ovviamente presente. Le proposte, qui entrerò, di tutela e del bene studiato e anche di salvaguarda e anche possibilmente di valorizzazione del bene, ma soprattutto credo fortemente in questa attività di indagine, di scrittura, di riscrittura, di indagine della biografia culturale diventi fondamentale la condivisione delle delle conoscenze, le proposte sul bene che si è indagato attraverso percorsi di ricerca azione che coinvolgono la comunità scolastica con i luoghi della cultura, con le professioni del patrimonio, con la politica territoriale che coinvolga tutta la cittadinanza. Perché credo che la cosa fondamentale sia di stimolare l'interazione tra la natura e la cultura attraverso la lettura delle tante storie che il territorio può narrare, perché la storia locale consente di far trasparire l'umanità, la concretezza, i sentimenti dei soggetti della storia nel tempo. Ecco, mi è capitato spesso di lavorare con gli insegnanti, con i bambini e con la cittadinanza tutta attraverso la costituzione, la creazione di mappe di comunità. Noi sappiamo che le mappe di comunità sono spesso legate ai musei, agli ecomusei, diciamo a un lavoro, un processo che viene fatto tra la cittadinanza e le istituzioni nel cercare di andare a individuare quegli elementi identitari in cui, anche attraverso un processo molto lungo, anche attraverso dei compromessi, andare a individuare quegli elementi identitari in cui la comunità si riconosce. Ma spesso nel fare questa attività di costruzione di una mappa di comunità, molte volte il pensiero, il punto di vista, quel senso di riconoscere un bene come patrimonio da parte di bambini e bambine non è mai considerato. Cioè è un po' come dire vediamo la città dal punto di vista dei bambini, poniamoci, diciamo, e viviamo la città all'altezza di come può viverlo un bambino o una bambina. Mi è capitato dunque di costruire una mappa di comunità in un percorso anche non solo pluriennale ma che ha coinvolto anche trasversalmente anche più ordini scolastici, le istituzioni e il territorio nel tentativo di partecipare collettivamente nel gruppo classe e poi successivamente condividendo il lavoro del gruppo classe con la comunità, con la cittadinanza, con l'istituzione, nell'andare a individuare quegli elementi in cui ci sentiva, quell'elemento era quell'elemento in cui si dava un valore perché quell'elemento rappresentava e raccontava qualcosa di me ma raccontava qualcosa, chi siamo noi, cioè della storia della mia comunità. È venuto fuori un lavoro straordinario, una mappa nel vero senso della parola che ha visto dialogare i bambini con la cittadinanza, con le professioni, con le associazioni, con tutti gli aspetti di vita del territorio e in un lavoro continuo di compromesso anche sono stati individuati quel monumento. Ma perché quel monumento? Quella storia, quella leggenda, quella professione particolare, quell'elemento della natura che contraddistingueva quella biografia culturale. E credo che insomma sia stato un lavoro importante ed un lavoro che in alcuni casi ha fatto sì che questa straordinaria sintesi della biografia culturale che rappresentava quel momento e quindi quei retaggi sono diventati quei nuovi valori che si attribuivano in quel tempo presente è diventata una mappa che in molti casi è una mappa che accoglie il visitatore o chiunque entra in quella città o in quel contesto comunitario. E poi penso anche ad altri esempi. Credo che se penso anche all'importanza della conoscenza degli articoli della Costituzioni, ma quanto è importante la conoscenza, renderla viva e pratica nella nostra quotidianità. E talvolta la storia ti restituisce degli eventi, degli episodi, come ricordavo proprio all'inizio, che raccontano quei luoghi e quei gesti che sono emblematici, che sono elementi che raccontano i legami di quelle storie e di quei valori di una comunità. Ci restituisce, come dicevo, degli esempi importanti. per chi conosce la mia città che è Bologna, che si contraddistingue per diversi volti come ogni comunità, come ogni città che sono i volti del patrimonio. Nella mia città c'è un portico, che è un portico cosiddetto protetto e devozionale, che è il portico di San Luca. Per chi è bolognese, quando arrivi nella città, che tu arrivi in auto, in treno, in qualsiasi altro mezzo, appena vedi la Basilica di San Luca, questo portico che si snoda per 3,8 chilometri, dice di sentirti di essere arrivato a casa. Orbene, da vent'anni, esattamente quest'anno sono vent'anni, perché l'iniziativa è partita nel 2002, viene rievocato da tutta la collettività, da tutti i cittadini, da tutti i bambini, un gesto molto importante, che è il passamano per San Luca. Un episodio, cioè importante, della storia della Basilica di San Luca, che è situata sul colle della guardia, più o meno a 300 metri di altitudine, una posizione che effettivamente è sovrastante, dominante, la città di Bologna, che collega col suo porticato la Basilica alla città. Ecco, il 17 di ottobre del 1677, quando si era proprio nelle primissime fase di costruzione dei tratti collinari del port, con il collega la Basilica, alla città, si dovette affrontare un problema importante preliminare, cioè come trasportare i materiali che avrebbero poi portato nel tempo a costruire. quel portico, perché non c'erano delle strade carrabili. E la semplice soluzione che si adottò fu in sintonia con la compartecipazione e lo spirito solidale che furono alla base di tutta quella grande impresa. Cosa fecero i cittadini? Quando dico cittadini intendo tutti, uomini, donne, bambini, di qualsiasi condizione sociale, decisero di porsi uno accanto all'altro e di passarsi i materiali necessari, attuando una catena umana. Ponendosi uno accanto all'altro, si passarono quel materiale, forse senza accorgere, facendo una grandissima impresa, perché superarono i punti più temuti, i punti più difficili, in una strada che non esisteva, ma che si andò passo dopo passo a dei lineari e nel tempo quell'impresa permise di costruire il portico di San Luca. Ecco, è un straordinario gesto di solidarietà. Di fronte a un problema la comunità si unisce e tenta di risolvere quel problema per il bene comune, per un interesse comune. Da vent'anni, nella terza settimana di ottobre, il 17 di ottobre, viene rievocato quell'antico gesto. Quindi immaginate che lungo quel portico quasi 5.000 persone si pongono uno accanto all'altro, dai bambini della materna fino ad arrivare ai nostri studenti universitari, fino ad arrivare a tutta la cittadinanza e rievocano quell'antico gesto. Che cosa ci si passa? Ogni anno cambia di volta in volta. Ci siamo passati le bandiere del mondo, ci siamo passati le formelle degli articoli della Costituzione, ci siamo passati delle icone che rappresentavano la storia e la leggenda di quel portico e della costruzione della Basilica di San Luca. Ecco, è un gesto fortemente simbolico, ma che mette in pratica quella e riattualizza quell'antico gesto di solidarietà. Ma non è solo un gesto che già di per sé stesso è importantissimo, ma c'è anche la consapevolezza di quell'emozione, di quel gesto che ha fatto l'impresa nel 1677. Perché quei bambini conoscono la storia di quel passamanno di San Luca della seconda metà del XVII secolo. L'hanno studiata, l'hanno conosciuta e l'hanno messa in pratica e continua a essere da vent'anni una tradizione cittadina. Considerate che quando tutti raggiungono, riproponendo quell'antico gesto alla Basilica, vengono investiti di di un titolo, potremmo dire di una professione del patrimonio, che è quella di essere, di aver partecipato al passamanno e di essere pertanto vigili e tutori del portico di San Luca. Conosco e ne assumo la responsabilità e sono investita di questa professione del patrimonio, nella consapevolezza che in questa responsabilità probabilmente non andrò a imbrattare quel portico. Il concetto che sta dietro a questo si è poi dopo trasformato di fatto in tanti altri passamano per la città. Dunque ci sono stati tanti altri passamano che sono svolti in momenti e tempi diversi. La quando c'era una necessità in cui si richiedeva, diciamo, la necessità di rifare quelle imprese. Mi ricordo per esempio di un altro bene, in questo caso, di un complesso monumentale che si trova a Bologna, il complesso monumentale di Santo Stefano, che un po' di anni fa, nel 2010, insomma aveva un po' di problemi di umidità. In questo caso cosa successe? Che si è studiato insieme a tutte le scuole, si è andate a scuole, si è andate a vedere questi luoghi, si sono studiati diciamo sotto tutti i punti di vista questo immenso patrimonio, come se fosse tanti quadri di assieme, e si è fatto un passamano per Santo Stefano. In quel caso ci si erano passate delle formelle che rappresentavano alcuni elementi di quel complesso, che poi sono stati venduti e ricavati devoluto alla Basilica. Ma in quelle settimane dove tutte le scuole e tutta la cittadinanza era coinvolta, i bambini di ogni ordine e grado erano ed erano diventate guide per quel weekend ed quei momenti di conoscenza, momenti culturali, di visita al complesso erano rientrati nel cartellone degli eventi culturali della città. Non è, diciamo, non sto esaltando la storia locale nel localismo, giammai ci mancherebbe, è la cosa più pericolosa che possa esistere, ma non c'è comunità che non abbia gesti della storia, che sono fortemente intrisi a dei luoghi, a degli eventi, a dei momenti. Rievocarli anche sotto questo punto di vista è molto importante. Penso anche ad altri momenti, come per esempio i parlamenti degli studenti, cioè io credo che sia davvero molto importante creare momenti in cui le ricerche che si conducono, conducono nel contesto scolastico, trovare dei momenti di condivisione con la collettività. E mi scusi se la interrompo, però volevo proprio, mi sono entrata a gamba testa proprio, no no, ok, è interessantissimo, veramente dovremmo, non basterebbero due, tre webinar, però sono entrata a gamba testa proprio perché ho sentito che ha appunto nominato i parlamenti degli studenti e è arrivata anche una domanda in merito e mi sembrava, diciamo, come dire, il punto giusto in cui inserirla, quindi le faccio anche questa domanda perché chiedono, possiamo considerare i parlamenti degli studenti uno strumento importante per abituare i bambini a un sano esercizio della politica intesa come partecipazione attiva alla vita dello Stato? Sì, assolutamente sì, nei parlamenti degli studenti si svolgono tantissimi anni su tutto il territorio italiano e non solo. Diciamo che sono assolutamente importanti, importantissimi. Noi, diciamo, li organizziamo anche qui da oltre vent'anni in questa, diciamo, relazione, connubio tra l'università, l'ufficio scolastico regionale, l'ufficio scolastico provinciale, con le istituzioni comunali, provinciali e regionali e con le scuole ed con la cittadinanza, in cui gli studenti sono coinvolti direttamente nei processi di organizzazione e di azione degli spazi, della vita urbana e di gestione della vita pubblica. Cerco di spiegarmi. I parlamenti degli studenti che organizziamo, come dicevo, da oltre vent'anni, rientrano in un progetto più ampio che si chiama Le Radici per Volare, eredi i protagonisti della storia. Abbiamo voluto appunto chiamare Radici per Volare perché abbiamo ripreso un antico detto canadese, Pelle Rossa, in cui si dice che il compito dei genitori è quello di dare le radici e solo attraverso le radici si può volare. È un paradosso, le radici e il volo. Però effettivamente è così, solo quando ho appunto quelle radici, quella profonda conoscenza della della mia storia, del patrimonio che ho ereditato, posso, posso spiccare il volo, posso volare e credo che Le Radici per Volare sia effettivamente un titolo che evochi molto bene il progetto educativo culturale che vi sta dietro anche all'esperienza dei parlamenti degli studenti. In che cosa consiste? A ogni scuola viene chiesto di prendersi cura di un aspetto del patrimonio, quindi l'abbiamo inteso, naturale, materiale e immateriale, di un periodo, dunque può essere di un personaggio, di un monumento, della propria città appunto. Conoscenza è implicita conseguente l'assunzione di consapevolezza, di responsabilità e di impegno verso il rispetto, la tutela e la valorizzazione che se ne deve fare. Cosa succede? Che ogni scuola quindi porta avanti le sue indagini, si creano momenti durante l'anno di incontro con altre istituzioni scolastici, contesti scolastici nei quali potersi confrontare sul medesimo quadro di assieme, sul medesimo oggetto che è diventato appunto oggetto di indagine, di ricerca, aprendo pertanto dibattiti e confronti. E poi si arriva a un momento davvero molto alto, che è il momento dei parlamenti dei studenti, in cui in una sala del Consiglio Comunale di Bologna, fino a pochissimo tempo fa, comunque di un'istituzione comunale, si svolgevano anche nella sala del Consiglio Provinciale, diremo oggi della città metropolitana, in cui i bambini e i ragazzi sono chiamati a raccontare molto brevemente le loro ricerche e avanzare proposte di miglioramento del bene che hanno studiato di fronte alle istituzioni, agli amministratori, di fronte ai cultori della materia. Come dicevo, avanzando proposte di miglioramento. Quindi l'università, quindi l'istituzione, gli amministratori si fanno carico di queste proposte di tutela, di valorizzazione del bene che hanno indagato e i bambini e le bambine vengono investiti della professione di essere vigili e tutori del bene che hanno indagato, presentato e condiviso con la collettività. Perché in quelle giornate non ci sono soltanto altri bambini, altre scuole che presentano le loro ricerche, già ascoltarsi è fondamentale, importante, è una grandissima richiesta. Ma c'è anche la città, ci sono anche i cittadini, c'è un momento di profondo ascolto. Gli studenti dunque diventano quella città vista, percepita e vissuta dai ragazzi. Diventano interlocutori forti e credibili delle istituzioni, soggetti permanenti e attivi di educazione alla cittadinanza. Il concetto qui di cittadinanza attraverso questa esperienza si riveste di nuovi significati, non è solo un insieme di diritti e di obblighi che danno all'individuo una formale identità legale, ma è una pratica che si attualizza come dialogo e continuo confronto, ascolto, riflessione critica, informazione sulla vita cittadina e i suoi interlocutori. Quindi comprendiamo come la scuola è uno dei luoghi in cui si costruisce l'educazione alla cittadinanza e di conseguenza è uno spazio in cui si costruisce l'educazione politica. Cioè quell'agire politico volto alla realizzazione del bene comune, concepito insieme dai cittadini che riguarda tutti noi. Il momento dei parlamenti è un momento per l'appunto di condivisione, ma che si ferma a quella soluzione di responsabilità e anche il fatto di investire simbolicamente, dell'essere un tutore, di colui che consapevolmente è ridato col passato e ne è pienamente consapevole, è importante. Io mi ricordo di un anno quando con alcune scuole, i ragazzi, i bambini, le scuole della primaria avevano studiato uno dei volti della città di Bologna che sono i canali. Insomma, il progetto era una riflessione che partiva dal presente, che partiva dall'importanza della risorsa dell'acqua, come vita, come ben sappiamo, ma sotto tutti i punti di vista. In questo caso la storia locale aveva permesso chiaramente a quei ragazzi, a quei bambini, di studiare, come avevo detto, alcuni volti dai canali, da considerare un momento storico e importante come la città di Bologna che l'ha vista capitale della produzione della seta. E questo aveva permesso ai bambini poi di stilare una serie di regole per tutelare questo bene prezioso che era l'acqua, una sorta di decalogo. Orbene, il giorno dei parlamenti dei studenti, c'è stata come una sorta di drammatizzazione, nel senso che quella rappresentanza della scuola si presentò, allora c'era una bambina che era vestita con questo tulle azzurro che rappresentava la personificazione dell'acqua, che aveva una spada ovviamente di polistirolo ed aveva letto questo decalogo e aveva investito lei stessa, simbolo dell'acqua, lei che rappresentava l'acqua, aveva investito simbolicamente i suoi compagni come i cavalieri dell'acqua, come una sorta di giuramento che ci riportava appunto al giuramento del cavaliere. È stato un momento straordinario, ma è un momento per me ancora più emozionante, è stato l'anno successivo quando quei bambini, quella bambina e quei bambini ritornarono ai parlamenti degli studenti e investirono, cavalieri dell'acqua, i nostri studenti universitari. Ecco è stato diciamo un momento importante e sono convinta, pienamente convinta che quei bambini e quei ragazzi ora hanno fatto un'impresa, l'hanno agita consapevolmente nel presente e credo che non si dimenticheranno mai quelle storie, quella storia, in questo caso la storia locale, ma ancora di più temi importantissimi di attualità perché l'hanno conosciuta, perché se ne sono assunte la responsabilità, sono stati investiti di questa responsabilità, quindi veramente considereranno ciò che hanno indagato un bene preziosissimo, come ho detto prima, inestimabile. Mi ricollego proprio a queste sue ultime battute per farle la prossima domanda perché appunto quanto più si può esperire direttamente, tanto più si può, come dire, introiettare qualcosa, un tema e infatti le chiedono come coniugare al meglio l'insegnamento della Costituzione con quello della storia in modo da insegnare ai bambini non solo gli articoli ma anche la loro applicazione quotidiana, quindi per avvicinarle ancora di più a questo importante strumento. Certo, come dicevo prima, per educare a riconoscimento dei propri doveri, dei propri diritti, delle proprie responsabilità nei confronti degli altri e al fine di promuovere una convivenza che sia basata basata sui valori della pace, della tolleranza, nel rispetto delle culture, delle tradizioni dei diversi paesi. Credo che sia fondamentale e occorra alimentare continuamente questo dialogo tra la scuola e il territorio, tra gli enti locali e tutti soggetti educativi esterni perché concorrono ad allestire gli itinerari formativi. Penso che il binomio per esempio solidarietà e cittadinanza sia una delle forme di responsabilità civica che presuppone lo sviluppo di forme relazionali interdipendenti e strumento fondamentale per la realizzazione del principio di uguaglianza. Lo stesso principio di solidarietà è direttamente espresso nella Costituzione italiana, l'articolo 2, quando si sottolinea, come ben sappiamo, il riconoscimento da parte della Repubblica e la sua garanzia garantisce la Repubblica i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e che richiede l'adempimento dei doveri interogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Penso ancora a questo inscindibile legame di una storia prossima. Noi pensiamo, se prendiamo le indicazioni nazionali, noi sappiamo che a un certo punto dalla storia personale si arriva a volgere lo sguardo verso un lontanissimo passato, davvero tanto tanto lottano che crea anche una forte spazio veramente molto ampio tra una storia personale tantissimo, milioni di anni fa. Ecco, credo che in questo caso la storia locale e credo che rintracciare anche nella storia locale tanti elementi che siano riconducibili a quegli articoli della Costituzione e dunque poi quella adozione, quella tutela, quella conoscenza, quella responsabilità di cui dicevo prima sia fondamentale. Penso, faccio un esempio, sempre ritornando, prima ho ricordato il passamano per San Luca, come sapete a Bologna c'è una presenza di portici che la contraddistinguono per ben 38 chilometri, che è un unicum architettonico senza ombra di dubbio e che non ritroviamo in altre città, quantomeno non ritroviamo nella bontanza che possiamo ritrovare in una città come Bologna. Non a caso molto recentemente sono stati definiti portici di Bologna patrimonio dell'umanità. Ecco, i portici sono l'espressione del momento in cui un interesse privato incontro un interesse pubblico e questi due interessi si fondono insieme per il bene comune. Perché se io penso ai portici, i portici come sono stati in moltissime città italiane, era un abuso edilizio, uno sconfinamento su un suolo pubblico per ricavare una stanza neanche, però su un suolo pubblico. Di conseguenza questo abuso edilizio nella maggior parte delle città è stato chiaramente condannato, bisognava abbatterli quei portici dal momento che era un abuso edilizio. In questa città si fece qualcosa di controtendente, si suggerì che bisognava costruire i portici, che ogni fronte, strada di ogni casa doveva avere il suo portico. Ciò che si fece fu in qualche modo coniugare un interesse privato della necessità sostanziale di avere uno spazio, al tempo stesso il tutelare un interesse pubblico era il fatto di essere un suolo che era un suolo pubblico. Cosa si fece? Si cambiò, si cambiarono le pertinenze. Quel suolo pubblico divenne un suolo privato ad uso pubblico. Tutti noi camminiamo sotto quei portici che sono patrimonio dell'umanità, ci appartiene a tutti, ma al tempo stesso sono privati e quindi è in capo al privato la sua manutenzione. Ecco, ritrovare quegli esempi e riattualizzarli nel tempo presente, che non significa, se noi ci pensiamo, considerare studiare quel monumento, ma qui significa studiare, avere la piena consapevolezza che quella storia dura da 900 anni ed è parte se dovessi costruire una mappa di comunità della mia città, elemento identitario. Penso anche ad un altro evento della storia della mia città, di una pagina riscoperta e di estrema attualizzazione. fu un provvedimento che venne preso il 3 giugno del 1257, dopo una serie di trattativi e di inchieste, quando il comune di Bologna riscattò tutti i serbi presenti sul suo territorio, erano 5.855 persone, pagando il comune di Bologna ai loro signori 395 proprietari delle somme prestabilite, che erano 8 lire per i minori di 14 anni e 10 lire per i minori. All'aspetto straordinario che quella somma, quella quota di 10 lire venne data senza distinzione tra maschi e femmine. Ecco, cosa ci può dire quel documento che risale alla seconda metà del tredicesimo secolo oggi? Tanto, tantissimo. Su quella lotta, su quella continua cura, tutela dei nostri salvaguardia, nei nostri diritti, quanto basta pochissimo perché quelle conquiste vengono messe in discussione, quanto ci può dire tanto sul concetto di genere e sul concetto di parità. La ringrazio. Purtroppo siamo, come dire, abbiamo raggiunto il limite orario. La storia di Martina. No, ma è come dire, è stato comunque piacevole, nel senso che mi rendo conto che il tempo non basta perché sono argomenti comunque complessi, ci sarebbe tanto da dire e sarebbe molto piacevole ascoltare. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è limitato. Però io la ringrazio non soltanto per l'argomento che ha trattato, ma per il modo in cui l'ha affrontato perché ci ha fornito testimonianze, esperienze dirette, che ha anche le storie che ha raccontato sono utili per capire come muoversi e come anche portare in classe questi argomenti. Ringrazio ovviamente tutti i partecipanti. Grazie Martina e grazie veramente a tutti e a tutti per la vostra attenzione. Io invito coloro che ci seguono anche a scriverci se avessero dei dubbi o delle perplessità. Noi invieremo volentieri le domande alla professoressa, vi lascio qui l'indirizzo. Vi ricordo che potrete rivedere la registrazione sul sito di giunti scuola sulla sezione dedicata alla rubrica A tu per tu. Ringrazio nuovamente e saluto la professoressa Borghi. Grazie. Grazie davvero e buona serata a tutte e a tutti. Buona serata, arrivederci a tutte e a tutti.